Siamo in collegamento Skype con Teresa Lococciolo della consulta attività sociale del coordinamento del forum che ci fa sentire attraverso la sua viva voce le proposte del forum appunto della Società Civile. Prego. Buonasera a tutti e grazie per questa opportunità che state offrendo al forum della Società Civile di Ostuni per illustrare il documento che è stato già inviato al sindaco e agli assessori competenti. Ecco, in questo particolare momento la popolazione di Ostuni sta mostrando veramente una grande solidarietà, una grande condivisione sia a livello personale che tramite le associazioni, attraverso anche le categorie produttive, commercianti, imprenditori che stanno donando veramente in modo lodevole e questa solidarietà è tanto più lodevole quanto più attuata con discrezione e senza secondi fini. Ecco, il coordinamento del forum rispetto a questa situazione è molto improvvisa a cui dobbiamo rispondere, ritiene che, anche alla luce di quello che sta accadendo in questi primi giorni, ritiene che occorre razionalizzare e coordinare meglio gli interventi assistenziali. Ecco, tutti gli interventi dovrebbero essere coordinati dai servizi sociali del Comune in modo da garantire la massima chiarezza e trasparenza e riteniamo che ci dovrebbe essere un centro unico di raccolta delle donazioni in denaro, quello della tesoreria comunale e questo Liban del Comune dovrebbe essere veramente diffuso più di quello delle altre associazioni che stiamo vedendo in giro e questo porterebbe a controllare meglio ogni spesa e a stabilire anche un ordine di priorità. Abbiamo notato che è iniziata la raccolta e la distribuzione dei beni di prima necessità ad opera della Caritas, della conferenza di San Vincenzo, della Croce Rossa e da lunedì la distribuzione anche dei pacchi da parte della Caritas presso la loro sede. Noi pensiamo che anche questa fase debba essere organizzata in modo più proficuo, forse anche in locali più spaziosi dove è consentito mantenere le distanze di sicurezza. Suggeriamo quindi per evitare anche un dispendio di energie, delle dimenticanze, delle disparità di trattamento tra le varie famiglie oppure addirittura elargizioni ingiustificate, di unificare tutti i dati disponibili, quelli degli uffici comunali, quello della Caritas, quelli della conferenza di San Vincenzo, incrociarli e stabilire un elenco delle persone che hanno effettivamente diritto. Inoltre oggi la Giunta Comunale ha deliberato per l'assegnazione del bonus alimentare a favore delle persone che hanno comprovate difficoltà economiche. Noi suggeriamo che questi buoni spesa siano già nominativi, onde evitare quello che è accaduto e che ha denunciato proprio oggi pomeriggio il sindaco di Gravina, cioè che qualcuno si stava vendendo il bonus ricevuto dal Comune. E poi riteniamo che le modalità di presentazione anche di queste domande vadano meglio pubblicizzate, coinvolgendo associazioni, sindacati, anche per la compilazione. Non tutte le persone hanno disponibilità di mezzi informatici, ma anche la stessa dimestichezza. E quindi forse anche per questo motivo, visto che è tutto chiuso, il Comune dovrebbe attivare uno sportello telefonico per fornire informazioni riguardo a queste domande, ma anche rispetto ad altri problemi. Poi è stata posta la scadenza lunedì 6 aprile, la scadenza per la presentazione di questa domanda. Forse ci appare troppo ravvicinata per le difficoltà e anche l'esigenza di giustizia di cui ho parlato prima. Per cui noi suggeriamo di, oltre che intestarli questi bonus, suggeriamo che la domanda possa essere, la scadenza possa essere procrastinata di qualche giorno. Tra gli altri interventi suggeriamo l'acquisto da parte del Comune delle famose mascherine, se ne trovano pochissime, per cui molti cittadini ostunesi sono sprovvisti. Ma ci è stato anche suggerito che queste mascherine possano essere confezionate dalle sarte, dagli artigiani volontari che abbiamo d'Ostuni. Il Comune potrebbe limitarsi ad acquistare la stoffa con cui, quella regolamentare, con cui confezionare queste mascherine. E questa cosa sta accadendo anche qui vicino a noi, a San Pietro Vernotico. L'abbiamo letto su Facebook, per cui delle sarte stanno distribuendo in modo volontario le mascherine. Ecco, come potenziare i capitoli di spesa per fronteggiare meglio l'emergenza di questa attuale pandemia? Certamente il bilancio non prevedeva spese per questo problema. Ci sono dei capitoli del nostro bilancio, quale per esempio quello delle manifestazioni pasquali, primaverili, che sono state tutte annullate. Quindi si può fare una revisione del bilancio. Poi, come abbiamo visto, il periodo di quarantena si sta allungando e tante persone, soprattutto quelle sole, hanno problemi anche a parlare con qualcuno. Noi abbiamo l'Associazione degli Psicologi di Ostuni, che ha attivato un servizio, un servizio psicologico gratuito. Per cui vi chiedo di pubblicizzare questo numero, 0831 17 06 224. Loro rispondono dalle 9 del mattino alle 20 di sera. Poi volevo rivolgere proprio anche un appello a voi della radio. State già svolgendo un grande servizio, le interviste che state passando, però noi vi suggeriamo un appuntamento quotidiano, dove i cittadini vi possono rivolgere delle domande, oppure potete connettere un po' il quotidiano della città, farlo emergere con gli assessori che rispondono, o il sindaco risponde, perché è un mezzo più capillare rispetto a Facebook, non tutti ce l'hanno. E poi vorrei rivolgere anche un appello ai miei concittadini. Dalla mia finestra vedo ancora molte persone in giro. Proprio avanti ieri il parroco della Madonna del Pozzo ha scritto nella nostra chat che c'erano dei bambini a giocare a pallone. Quindi io mi appello un po' a tutti noi, occorre ancora maggiore responsabilità. Stiamo in casa e alle forze dell'ordine di intensificare i controlli, perché per quello che ci dicono i medici, siamo nella settimana quasi clou per il Sud. E poi? Poi molti si stanno ponendo questa domanda. Tutti i giornali stanno riempendo le pagine che dopo non sarà più come prima. Io penso che non sarà più come prima se sapremo mettere al centro la persona umana. La persona umana prima di tutte le altre priorità e le altre logiche anche di potere che finora ci hanno governato e mettere al primo posto il bene comune. E poi, ecco, noi le consulte le abbiamo elette. Ancora non c'è stato l'insediamento né una delibera di notifica. Per cui chiediamo all'amministrazione, al sindaco di fare questa delibera. Noi in modo informale ci siamo già, come dire, messo in rete. Per cui siamo pronti per offrire tutta la nostra collaborazione. Il forum c'è, le consulte ci sono. Quindi insieme potremo venire fuori da questo momento molto difficile che sta attraversando la nostra città. Bene, grazie, signora Teresa Lococciolo. Noi vi ringraziamo per questo intervento molto interessante e ci sentiremo più in là per altre comunicazioni. Va bene? Grazie, grazie e buonasera a tutti. Grazie. Grazie.